Tutti mobilitati per aiutare la piccola Iaia, che da due anni combatte con una brutta forma tumorale e a gennaio dovrà essere accompagnata in America per un delicato intervento chirurgico. Per poter essere operato accorrono 800 mila euro e al momento ne sono stati raccolti in tutto l'Abruzzo poco più della metà. In provincia di Teramo si è mobilitato alla ricerca di fondi il consigliere regionale del nuovo centrodestra Giorgio D'Ignazio, che durante la trasmissione Veramattina ha lanciato un appello a tutti coloro che vogliono metterci la faccia per aiutare Iaia. È una onlus che è nata per aiutare a trovare fondi a Iaia, un nome da fictizio, di una bambina di Roccaraso affetta da un neuroblastoma, un tumore molto raro e che deve andare il 15 gennaio, quindi deve partire per il Cancer Center di New York e ha bisogno di trovare 800 mila euro. Ci stiamo dando a fare una mobilitazione di carattere generale che non ha ovviamente né ideologie né soprattutto colori politici. È chiaro che per Giorgio D'Ignazio o i tanti Giorgio D'Ignazio è più facile avere contatti con Iaia Smiglia, quindi io mi sono fatto promotore presso tante strutture, presso tutti il consiglio regionale, presso i parlamentari abruzzesi, i sindaci di tutti i comuni abruzzesi, la Banca dei Popolari Bari perché ci dà la possibilità di raccogliere fondi al concerto che farà a breve a Teramo con Gianni Morandi, al sindaco di Giuliano, sono tante le iniziative che nascono a Teramo Calcio, a Pescara Calcio, tutti devono partecipare anche versando un euro, 5 euro, 3 euro, insomma quello che si sentono di versare perché insomma la sfida la dobbiamo vincere, noi abruzzesi siamo sempre stati un popolo solidale e dimostriamolo anche adesso. I recapiti del Liban possono essere reperiti sulla pagina Facebook creata per la Onlus o sul sito internet a lei dedicata.